L'approfondimento che oggi faremo che vi anticipo subito sarà un approfondimento molto tecnico, molto anche breve, andremo subito al sodo per capire quali sono le caratteristiche che dopo un inquadramento normativo sono quelle che permetteranno agli investimenti delle imprese di accedere alle agevolazioni e dall'altra parte anche da un punto di vista invece dei fornitori di tecnologie 4.0 capire se i loro prodotti e quali eventualmente sono gli interventi e le caratteristiche che devono avere i prodotti perché possano essere offerti ai propri clienti con i requisiti necessari per essere utilizzati per poter accedere a questo tipo di agevolazione. È qui con noi Luca Moniterni che da tempo collabora con CNA Lombardia in ambito agevolazioni e sottolino solamente che questo webinar è promosso anche nell'ambito del progetto camerale Digital Innovation Hub di Brescia e Cremona e nell'ambito della rete Enterprise Europe Network di cui CNA Lombardia fa parte e che è la rete di supporto alle PMI negli ambiti appunto di innovazione e internazionalizzazione. Io lascerei subito la parola a Luca Moniterni che ringrazio. Grazie a te Silvio e grazie ancora a tutti i partecipanti a questo webinar condivido lo schermo per avviare una presentazione che ho preparato in relazione a proprio le misure di cui parleremo oggi. Quindi parliamo di credito d'imposta software 4.0, formazione 4.0, si tratta di opportunità molto interessanti per le piccole e medie imprese ma anche per le grandi imprese. Quindi l'ambito di riferimento è quello della transizione 4.0, argomento che è stato trattato più e più volte quindi non andiamo a specificare di che cos'è il paradigma dell'industria 4.0 bensì ci focalizziamo direttamente sulle due misure. Quindi software 4.0 ricade nel macro ambito del credito d'imposta per investimenti beni strumentali dove ci sono i beni strumentali materiali e immateriali, quindi il nostro ambito di riferimento è quello dei beni immateriali che sono funzionali quindi alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi all'interno delle aziende. Il secondo ambito è quello della formazione 4.0, va bene investire in macchinari, in beni strumentali, in materiali e immateriali quindi in hardware e software, però dopo tutti questi strumenti bisogna acquisire una certa dimestichezza e quindi qui interviene la formazione 4.0 il cui scopo è quello di sostenere le imprese in questo processo di trasformazione tecnologica e digitale attraverso l'acquisizione di competenze da parte degli operatori, da parte dei dipendenti delle aziende in quelli che sono le tecnologie 4.0, quindi secondo quello che è il paradigma proprio alla base dell'industria 4.0 dove vi è una forte preponderanza di elementi di dati, interconnessione, integrazione formativa, software, quindi sono tutti quegli elementi utili ad effettivamente attuare un processo di trasformazione digitale all'interno delle aziende. Credito d'imposta a beni immateriali, quindi parliamo qui dei software 4.0, così come è stato normato dall'articolo 21 del decreto aiuti in cui sono state aumentate le aliquote per gli investimenti in beni immateriali 4.0 per tutti quegli investimenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 con una coda fino al 30 giugno 2023 se l'azienda che intende effettuare questi investimenti in software ha versato a conti per questi beni immateriali pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Quindi soddisfatto questo requisito, ovvero investimenti effettuati nel corso dell'anno fiscale 2022, ribadisco con la possibilità che questi software possano essere consegnati e presi in carico fino al 30 giugno 2023 a patto che è stato versato questo anticipo, l'aliquota aspettante alle aziende per gli investimenti fino a un milione di euro è pari al 50%, quindi l'aliquota è effettivamente passata dal 20% al 50% per tutte quelle aziende che investono in software 4.0. Ma come faccio a individuare quali sono i software ammissibili? Allora già la legge di bilancio 2017 conteneva quello che è l'allegato B. L'allegato B alla legge di bilancio 2017 evidenziava un elenco di software per i quali era possibile beneficiare di quello che precedentemente era il superammortamento. quel superammortamento per i software è diventato quindi un credito d'imposta e l'elenco dei software non è di fatti invariato, non è di fatti invariato, quindi è rimasto immutato rispetto alla legge di bilancio 2017. Sono incluse all'interno di questo elenco una moltitudine di software, quindi andare in questa sede a vedere ambito per ambito, voce per voce quali sono, si tratterebbe di leggere un elenco di bullet point in merito ai software che sono ammissibili a questo credito d'imposta. Quindi abbiamo a titolo esemplificativo sistemi MESS, i software per la progettazione anche 3D, i software per i big data industrial analytics, sistemi e soluzioni di machine learning e intelligenza artificiale, abbiamo anche le soluzioni e software per la cyber security, i sistemi per la gestione della realtà aumentata attraverso dei wearable device, quindi come possono essere quegli strumenti che vengono indossati effettivamente e che ti proiettano all'interno di una realtà aumentata. Quei software per la gestione della supply chain all'interno dell'azienda, sono quindi una moltitudine di software che possono essere, che possono beneficiare di questo credito d'imposta. Ulteriori informazioni sulle specificità di tali software sono contenuti nella circolare del 30 aprile 2017, prodotta dall'Agenzia delle Entrate, dove vengono poi effettivamente analizzati punto per punto dei casi specifici per tali software. Quindi è opportuno anche in sede di verifica fare un'analisi dei software rispetto ai contenuti di questa circolare del 30 aprile 2017. Ad esempio se noi parliamo di software e sistemi per la progettazione 3D, qui ci sono alcuni esempi, la modellazione 3D si riferisce esclusivamente agli strumenti di progettazione di prodotto. Oppure se andiamo nell'ambito della cyber security, ad esempio, con esempi sono i sistemi di controllo degli accessi al sistema informatico, i sistemi di monitoraggio del traffico dati, i sistemi di criptazione dei dati, sistemi di gestione della privacy e sicurezza dei dati sensibili, sistemi per l'interazione sicura degli oggetti. Quindi sono forniti all'interno di questa circolare tutta una serie di esempi molto utili a inquadrare effettivamente l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta rispetto ai software indicati inizialmente nell'allegato B alla legge di bilancio 2017. Quindi questo è utile sia per chi intende acquistare i software, quindi io sono un'azienda, devo acquistare un sistema per un MES, un sistema gestionale, un software, una soluzione per la cyber security, posso verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta e da lì quindi posso beneficiare di questo credito, che risulta essere anche molto interessante perché vediamo che per quest'anno fiscale risulta essere pari al 50%. E questo è l'ultimo anno in cui vi è un tale credito d'imposta, ovvero con queste caratteristiche del 50%, perché lo scenario post 2022 e quindi per gli anni fiscali 2023, 2024 e 2025, con le varie code per ogni anno fiscale, quindi investimenti effettuati nel 2023 con consegna fino al 30 giugno 2024 e così via anche per l'anno fiscale 2024, la cui code fino al 30 giugno 2025, vi sarà un decalage progressivo dell'aliquota per questi investimenti in beni immateriali. Per il prossimo anno quindi l'aliquota sarà pari al 20%, per l'anno fiscale 2024 l'aliquota sarà pari al 15%, mentre per il 2025 l'aliquota sarà pari al 10%. Adesso, guardando le cose sotto un'altra prospettiva, siamo in attesa che venga formato il nuovo governo e siccome tutte le parti politiche si sono spese nel dire che comunque intendono rendere sistemico e rafforzare questi strumenti per la digitalizzazione delle imprese, se stiamo a vedere, aspettiamo per vedere se vi saranno delle modifiche sostanziali a tali misure e a tali aliquote, quindi lo scenario che noi fotografiamo oggi è quello che è stato stabilito dalle scorse leggi di bilancio e dai vari decreti come il decreto aiuto, quindi ci rifacciamo alla legge di bilancio 2020, dove sono state poi normate le nuove misure del piano transizione 4.0 e le successive modifiche. Probabilmente con la legge di bilancio 2023 vi saranno ulteriori modifiche al piano, così come ci si attende, magari in senso migliorativo, però ribadisco, noi stiamo fotografando lo scenario attuale sulla base di quelle che sono le misure, così come sono state normate dai precedenti governi. Parliamo dell'anno fiscale 2022, quindi tutti gli investimenti effettuati all'interno di questo anno fiscale, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, con la coda di cui abbiamo visto per la consegna di beni. Adesso consegnare dei beni in materiale a giugno 2023 risulta anche difficile capire, magari si tratta di soluzioni sviluppate ad hoc, se si tratta di software già disponibili in commercio, quindi io penso che questa problematica della coda al 2023 non ci sia, quindi noi parliamo dell'anno fiscale 2022. Supponiamo che io abbia acquistato a febbraio un software, un sistema per il monitoraggio dei log di sistema all'interno del mio network, quindi soluzioni per la cyber security, posso applicare l'aliquota del 50% e cumulare investimenti fino a un milione di euro sulla base dei quali puoi calcolare il 50% di credito d'imposta. Dal punto di vista documentale non sono previsti dei passaggi specifici per quanto riguarda appunto gli oneri a capo delle aziende, ovvero non è prevista la necessità di un'analisi tecnica del software, però è raccomandabile che vi sia questo tipo di documentazione che attesti che il software corrisponda a uno dei beni in materiali previsti dal legato B alla legge di bilancio 2017. Tenendo conto che per investimenti più corposi ebbene anche dotarsi di una perizia ad esempio o comunque di un parere tecnico specialistico. Adesso per esperienza ad oggi non mi è mai capitato di vedere investimenti da parte delle PMI esorbitanti per quanto riguarda software, cioè personalmente non mi è ancora capitato di vedere investimenti da centinaia di migliaia di euro in software, decine di migliaia di euro sì, però magari fare una autodichiarazione, avere un'attestazione del fornitore di un terzo sul fatto che questo software, ad esempio un sistema MES, ricade effettivamente tra i beni considerati all'interno di questo allegato B alla legge di bilancio 2017, nonché facendo riferimento anche alla circolare del 30 aprile 2017 dell'Agenzia delle Entrate, può essere una cosa utile perché sui crediti d'imposta l'Agenzia delle Entrate sta prestando sempre più attenzione e quindi le verifiche anche su tutte queste misure sicuramente ci saranno, così come ci saranno le verifiche su tutto l'ambito della formazione 4.0, così come è stato poi effettivamente predisposto dall'Agenzia delle Entrate con una circolare di alcuni mesi fa, quindi credito d'imposta a prescindere che si tratti di beni immateriali o beni strumentali o formazione, richiede sempre un'attenzione specifica sulle modalità di attivazione e su come si beneficia di tali misure. Proprio perché è uno strumento nel quale non c'è una validazione extante, viene fatto totalmente dall'impresa come appunto valutazione con il supporto sicuramente di tecnici e nel caso in cui appunto l'impresa lo ritenga e da questo punto di vista l'Agenzia delle Entrate abbiamo visto nella nostra esperienza essere anche piuttosto aggressiva nell'ambito degli approfondimenti, quindi suggeriremo appunto di tutelarsi da un punto di vista tecnico con una relazione o un'autodichiarazione però supportata da basi tecniche consistenti o di un terzo, di un soggetto terzo. Mi preme sempre precisare che è molto interessante lo strumento in generale del credito d'imposta perché a differenza i contributi a fondo perduto che hanno, che rientrano nel fatturato e nel reddito e quindi vengono tassati il credito d'imposta è un beneficio netto per l'impresa, quindi quel 50% è un qualcosa che viene compensato a livello fiscale e quindi in un certo senso l'impresa vede questo beneficio aggiungersi alla detrazione dei costi relativi all'investimento e quindi diciamo c'è un doppio beneficio rispetto a contributi come possono essere appunto i contributi a fondo perduto. Questo lo dico sempre e l'ho preciso perché è un qualcosa che quando si vuole andare a considerare il beneficio e in un certo senso gli investimenti penso che sia una parte importante. Assolutamente. Quindi questo è l'ambito oggettivo del credito per gli investimenti in beni immateriali, è interessante sia per le aziende che investono in questi beni, sia per chi sviluppa soluzioni software che ricadono all'interno dei beni considerati nell'allegato B perché comunque può essere una leva commerciale interessante. Chi investe in software ha un beneficio del 50% quindi può essere maggiormente propenso a investire e quindi anche per chi sviluppa tali soluzioni vi può essere un ritorno in termini di incremento di vendite quindi è bene anche prestare attenzione se le soluzioni che vengono sviluppate ad hoc da parte di determinate software house possano essere considerate software 4.0 tali per cui l'acquirente beneficio del relativo credito d'imposta. Ti ringrazio Luca, è preciso che come CNA in collaborazione e come InTech supportiamo le imprese per l'accesso a questo tipo di agevolazioni o come ci dicevamo per la parte dei software 4.0 offriamo anche un servizio di analisi di quelli che sono le caratteristiche dei software offerti dalle imprese per utilizzare questo tipo di agevolazioni come leva commerciale. Siamo a disposizione, contattate le vostre CNA territoriali se doveste avere richieste, riceverete una mail di recap